Salve a tutti e ben ritrovati. Oggi continuiamo il progetto dell'alimentatore da laboratorio Mark 1 in quanto ho appena finito di ultimare lo schema elettrico che ho deciso di adottare per realizzare l'alimentatore e quindi adesso andremo ad analizzare tutte le parti di cui si compone. Partiamo dall'ingresso ovvero dal trasformatore di isolamento che è rappresentato in questo modo. Perché l'ho rappresentato con due generatori? Perché il trasformatore da isolamento che ho trovato è un trasformatore a presa centrale ovvero l'avvolgimento di uscita sono due cioè è uno però vi è una presa centrale quindi va a dividere a metà l'avvolgimento di uscita in questo modo qui. Quindi come ho detto il trasformatore è rappresentato con questi due generatori e per capire meglio lo stato di ingresso che infatti come potete vedere ci sono degli switch bisogna fare un discorso. Come abbiamo detto nello scorso video sappiamo che questo tipo di alimentatore sarà molto dissipativo quindi avendo trovato un trasformatore a presa centrale cos'è che voglio fare. Questi avvolgimenti si possono sia mettere in serie che in parallelo e qual è il guadagno? Il guadagno è che mettendoli in serie io ottengo una tensione di uscita raddrizzata di 30 volt ma mettendoli in parallelo posso ottenere una tensione di uscita raddrizzata di 15 volt quindi se io devo generare la 9 volt con questo alimentatore non ho bisogno di far abbassare al transistor la tensione da 30 volt a 9 volt ma posso mettere questi due avvolgimenti in parallelo e farlo abbassare solo da 15 a 9 volt quindi in termini di energia persa ho un guadagno davvero molto elevato. Quindi cosa ho pensato di fare? Ho pensato di mettere qui un interruttore che ho rappresentato con questi due switch che funziona nel seguente modo. Quando questo è chiuso e questo è aperto abbiamo che il filo della presa centrale è disconnesso e il condensatore è cortocircuitato direttamente al polo negativo di questo ponte quindi in questa modalità sul condensatore quindi sul tutto il circuito arriveranno 30 volt raddrizzati ma quando io apro questo interruttore e chiudo questo quello che faccio è inibire questi due diodi quindi andranno a funzionare quelli di sopra solo a fasi alterne ed essendo che la massa di questo nodo è rapportata al nodo centrale quello che succede è che il nostro circuito verrà alimentato come appena detto in precedenza da 15 volt. Subito dopo il condensatore di livellamento incontriamo un circuitino ovvero un piccolo LDO. Questo circuitino lo avevamo già studiato nel video 18 del canale infatti è un circuitino custom e sperimentale e quindi essendo che l'ho studiato voglio provarlo e lo utilizzerò in questo progetto per la prima volta. Questo LDO serve per andarmi a generare la 5 volt infatti poi tutta la parte di ausiliaria si avvantaggerà di questa tensione per poter funzionare quindi indipendentemente poi dallo stereo di potenza ho bisogno di una tensione fissa di 5 volt per poter alimentare la logica di controllo. Quindi sul funzionamento di questo circuitino non mi lungo molto in quanto l'avevo già fatto nel video 18. Successivamente troviamo lo stadio di potenza che si compone principalmente di un push-pull dove come NPN ho usato un 2N3055 che sarà poi in effetti l'unico MOS di potenza perché il PNP ha soltanto poi come vedremo una funzione di controllo quindi tendenzialmente sarà sempre spendo. Com'è che quindi funziona? Supponiamo che questo ramo sia spendo quindi il controllo non entri in azione. Quello che succede è che nella fase iniziale questo transistor è spendo quindi tutta la corrente che passa per questa resistenza si riversa sulla base di questo transistor che è un BC547 e che utilizzando questa configurazione Darlington va a dare alla base del transistor 2N3055 una corrente molto amplificata che a sua volta si amplificherà di nuovo e quindi caricherà velocemente la tensione di uscita. Quando il condensatore giungerà alla tensione voluta quello che succede è che si attiva la prima rete di feedback ovvero il controllo di tensione. Infatti a seconda del valore che noi andiamo a impostare qui perché questo qui altro non è che l'ho disegnato con due esistenze ma qui si trova il potenziometro con cui andiamo a settare la soglia. Quando giungerà alla soglia questo amplificatore operazionale messo in modalità di integratore inizierà a far salire la sua uscita e questo transistor inizierà ad accendersi. Quindi così facendo inizierà non più a far fluire la corrente su questo ramo ma inizierà a tirarla. Quindi pian piano il 2N3055 si spegnerà. Quindi quello che vi ho appena descritto sarebbe il transitorio iniziale dopo il quale la tensione di uscita si stabilizza e anche l'uscita dell'amplificatore si stabilizza quindi questo transistor resterà in uno stato di accensione tale da consentire il passaggio di corrente in questo ramo solo per andare a ricaricare l'energia che viene dissipata in uscita. Invece quando è che entra in funzione questo ramo? Supponiamo che quindi noi in questo momento abbiamo impostato il valore di tensione, che l'uscita abbia raggiunto il valore di tensione da no desiderato e che andando a connettere il carico andiamo a connettere un carico superiore al valore di corrente limite impostato con questo potenziometro e quindi che cos'è che succede? Succede che questo ramo del circuito si attiva ovvero tramite questo sensing e questa amplificazione della tensione letta, questo amplificatore operazionale inizierà a integrare sull'errore e inizierà a sua volta ad accendere questo transistor. Quindi in pratica tutte e due questi loop di controllo agiscono su questo transistor. Ecco perché c'è la presenza di questi due diodi per far sì che i due amplificatori operazionali non si influenzino a vigente e succederà la stessa cosa ovvero questo transistor si accenderà e farà passare più corrente per il suo collettore e quindi la corrente che passa per il 2N3055 diminuirà ancora, diminuirà fino a quando la corrente assorbita dal carico non sarà uguale al set point impostato, quindi se non abbiamo impostato una certa tensione ma a quella tensione il carico assorbe troppa corrente la tensione di uscita verrà abbassata ulteriormente perché questo loop di controllo vince rispetto a questo e questa è una feature molto importante perché supponiamo che una scheda si sia rotta, si stia per danneggiare evitiamo che magari i componenti vadano a fuoco perché se impostiamo questo valore molto poco molto piccolo, supponiamo per esempio una scheda di tipo logico non ci aspetteremo mai che assorba degli ampere quindi impostiamo questo valore molto piccolo e la scheda assorbe di più e lui cosa fa? Va a chiudere la tensione. Ora invece voglio focalizzarmi su tre componenti di cui ancora non ho parlato ma che sono importantissimi per la buona riuscita di questo alimentatore ovvero sto parlando del diodo 1, diodo 2 e del transistor PNP. Studiando anche i vari schemi elettrici che si trovano in rete è davvero difficile trovare la presenza di questi tre componenti ma senza il quale la stabilità e soprattutto il funzionamento del circuito risulta davvero molto difficile. Partiamo spiegando il funzionamento del PNP. Quando è che lui entra in funzione? Supponiamo di aver impostato una tensione di uscita tramite questo set point di 20 volt e che successivamente stacchiamo il carico. Dopodiché noi andiamo a variare questo set point e lo portiamo a 5 volt. Quello che succede è che se andiamo a leggere l'uscita, l'uscita è rimasta a 20 volt. Quindi se noi distrattamente andiamo ad attaccare la nuova schedina che magari regge solo 5 volt massimo colleghiamo e la bruciamo. Perché l'uscita non è scesa quando abbiamo variato il set point? Perché una volta che noi scolleghiamo il carico questo condensatore resta carico e non ha nessun modo per scaricarsi naturalmente. Quindi quello che succede quando noi andiamo a variare il set point per far sì che questa uscita cali c'è bisogno qui di un PNP in quanto quando il transistor si accenderà farà passare corrente fra il suo emettitore base e quindi andrà a tirare giù la tensione che c'è su questo nodo. Altrimenti questo nodo resterà carico e questa è una cosa assolutamente che non si deve verificare. Inoltre la presenza di questo transistor aumenta di molto la stabilità del circuito. Infatti soprattutto per quando riguarda il controllo in tensione senza questo transistor la stabilità quindi il tempo di assestamento dopo che il circuito subisce una variazione sarà molto più alto rispetto a quando è presente questo transistor. Passiamo ora invece alla spiegazione di diodo 1 e del diodo 2. Supponiamo che noi abbiamo in uscita sempre i nostri 20 volt e che improvvisamente vogliamo che la nostra uscita vada a 5 volt. Quindi cosa succede? Cambiamo il set point, l'amplificatore operazionale si attiverà quindi accenderà al massimo questo transistor perché vuole che questa tensione vada giù in fretta. Ma che cosa succede allora? Supponendo di non avere questi due diodi, questo nodo se ne va improvvisamente alla tensione di saturazione del collettore emettitore del transistor quindi supponiamo anche un 2 volt. Mentre qui noi abbiamo 20 volt. E che cosa succede? Succede che attraverso le due basi emettitori di questi due transistor si verrà a generare una tensione inversa positiva qui e negativa qui. Ma le basi del diodo base emettitore dei transistor è davvero molto delicato ovvero in corrente in tensione inversa può reggere al massimo 6 o 7 volt. Quindi quello che succede è che appena si accende questo transistor noi rischiamo di rompere i due diodi di base emettitore dei due transistor. Quindi andando a inserire questi due diodi in questa configurazione noi stiamo andando a proteggere dalla rottura i due diodi presenti fra la base e l'emettitore dei transistor. Infatti questo diodo consente che la corrente passi solo in questo verso. Mentre quest'altro diodo fa sì che quando si presenta una tensione inversa lui consente di caricare questa base del primo transistor in modo che la tensione massima inversa che si può verificare in questo modo è pari alla sua cauta di tensione che in genere per questi diodi al silicio è pari a 0,7 volt quindi assolutamente questi due diodi possono reggere questa tensione. Per quanto riguarda la realizzazione su PCB penso che dividerò il circuito in due parti ovvero metterò la parte dell'ldo del voltage loop e del current loop su uno schedino anche perché in effetti riguarda tutta la parte della logica mentre per quanto riguarda lo stadio di potenza e lo stadio di raddrizzazione con il commutatore penso che andrò a metterlo su un altro schedino anche perché ci saranno degli elettrolitici davvero molto ingombrandi quindi tutto su uno schedino non riuscirebbe a entrare. Ho realizzato il layout dei due schedini con il programma CAD e questo è lo schedino per quanto riguarda lo stadio di potenza infatti qui si vede chiaramente il ponte con il condensatore e qui lo stadio di commutazione mentre questo qui è lo stadio di potenza appunto con la parte di controllo quindi questo è tutto quel circuito che abbiamo visto prima qui questo sarebbe il pnp mentre l'npn ovvero il 2n3055 non è presente su scheda ma tramite dei pin verrà poi collegato qui in quanto vi è la necessità di montarlo su un grosso dissipatore quindi qui verrà filato questo è il feedback del loop di tensione mentre questa è la resistenza di shunt per quanto riguarda il loop di corrente. Questo qui invece è il layout dello schedino di logica e qui possiamo riconoscere la parte dell'ldo mentre questo superiore sarebbe il loop di tensione mentre questo inferiore corrisponde al loop di corrente. Questo è venuto bello fitto anche perché devo rimanere nel range 5x7 cm delle schedine mille fori che ho e quindi diciamo è venuto bello popolato si capisce poco ma ci sta tutto. Ora quindi andrò a saldare i componenti sui due schedini e poi proseguiremo con i prossimi step per la realizzazione del progetto. Per questo video quindi è tutto. Alla prossima!